Partegno Lombardi di Avellino, Avellino Picerno in casa l'Avellino non ha mai sconfitto il Picerno in tre precedenti dopo la sconfitta con polemiche annesse a Giuliano la squadra di Michele Pazienza deve ripartire assodato che la Juve Stabi è andata c'è un secondo posto da contendere al Benevento di fronte un Picerno reduce da una sola vittoria nelle ultime otto giornate ma in piena lotta per ottenere il miglior risultato sportivo della propria storia servono sei punti per superare i 59 della stagione 2022-2023 al 34esimo prima opportunità per l'Avellino con Ricciardi, bravo, Merelli al 41esimo cambia la partita, Gori lavora alla grande la sfera, Patierno viene atterrato da Allegretto, cartellino rosso per Allegretto e continuano i problemi per il Picerno già in grande emergenza con Cadili e Novella squalificati assenti De Ciancio, Ceccarelli, Albadoro e i lunghi degenti Garzia, Vitali e Graziani in dieci uomini la squadra di Emilio Longo dagli 11 metri Patierno l'uomo del momento per l'Avellino non sbaglia, undicesimo gol in undici partite disputate nel suo meraviglioso 2024 1-0 per l'Avellino all'intervallo esulta il partenio Lombardi nella ripresa con l'uomo in più, l'Avellino di Laga su calcio d'angolo Cancellotti la rimette, Armellino prende la base del palo il 2-0 è maturo altro calcio di rigore per la spinta di Gallo su Gori conciliabolo tra Gori e Patierno Gori vorrebbe battere il rigore guadagnato ma alla fine è Patierno a presentarsi dagli 11 metri e non sbaglia quinto gol su rigore del suo campionato 2-0 per l'Avellino Patierno non è contento e vuole sdebitarsi in qualche modo con Gori e allora sforna questo assist per Gori che fa il resto 3-0 in grande stile per l'Avellino esulta Gori al dodicesimo timbro in stagione l'undicesimo in campionato non è finita al sessantaduesimo d'ausilio per Patierno e sono 18 in stagione per Patierno la curva sud è ai suoi piedi poi Pitarresi da punizione tap in vincente di Biasiol non perfetto Guidotti primo gol tra i professionisti in Italia per il Croato subentrato nel corso della ripresa Ricciardi sul fondo bel cross morbido per Frascatore primo gol con la maglia dell'Avellino per lui altro assist per Ricciardi il sesto della sua stagione l'ex Turris segna il 5-1 anche dall'olio si iscrive alla festa per il 6-1 primo gol stagionale il terzo in maglia Avellino in 35 presenze è una serata da ricordare per l'Avellino è una serata che finisce 6-1 quarta vittoria in casa consecutiva per l'Avellino di Michele Pazienza e meno 2 dal secondo posto del Benevento a quattro turni dalla fine grazie 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 grazie